Qui ci vorrebbe proprio un po' di colore. Ce ne occupiamo, no? Siamo una squadra e il mondo lo guardiamo dal nostro punto di vista. E allora armiamoci di carta, pennarelli, colori e un mucchio di fantasia. Vi mancano le idee? Qui possiamo fare di tutto con tutto. E poi siamo gente simpatica, praticamente perfetti. Come puoi pensare di non seguirci? Art Attack, tutti i giorni alle 18 a Disney Channel. Grazie a tutti.